1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 Grazie. 1, 2, prova, prova, 1, 2, prova, 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 prova. Prova, prova, 1, 2, 1, 2, prova, 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 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Grazie. 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 Io bombo. Non ce n'è un'altra. Non so che dirvi. Non so che dirvi. Sto cazzo di paese. Fottuto. Non ci credo. Non c'è un'altra uscita. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 dell'Europa. Un paio di frasette. E lo stesso in fondo avviene per quello che viene considerato l'unico altro polo interessante di questa campagna elettorale, cioè Grillo. Anche nella sua campagna elettorale si parla molto di Italia, si parla molto dei suoi nemici immediati, si parla pochissimo di quello che è il vero oggetto di questa campagna elettorale. Noi vogliamo invece parlare di Europa perché siamo convinti che la partita, la partita vera per il nostro paese, per l'Italia, si gioca lì. E' in Europa che si decide se questo paese sta su o cade. Perché o si cambiano le politiche europee o si cambiano drasticamente gli attuali equilibri al vertice dell'Europa o questo paese non ce la fa? Possono raccontarci tutto quello che vogliono, possono fare i giochi di prestigio che vogliono, possono usare le retoriche che vogliono, possono raccontarci che il PIL crescerà del 2%, del 3%, che otterremo di ridurre di 0,1, 0,2 punti, la possibilità del deficit e così via. Ma se non cambia radicalmente l'equilibrio in Europa, al governo potrebbe andarci anche Gesù Cristo. Non c'è Gesù Cristo attualmente in Europa, non vedo figure di questo, ma nemmeno qualcuno degli apostoli. Ma se anche ci fosse qualcuno capace di fare miracoli senza la capacità di cambiare i livelli decisionali e l'architettura dell'Unione Europea, senza immettere dosi massicce di democrazia in Europa, noi non ce la faremo né sul piano economico e nemmeno sul piano delle istituzioni democratiche. Noi rischieremmo di perdere anche quella democrazia malata, ma che comunque continua a essere tale, almeno sulla carta costituzionale, l'attuale Europa è destinata a imporre riduzioni della nostra democrazia se non riusciamo a cambiare quegli equilibri. Ecco perché noi ritenevamo che sarebbe stata una catastrofe se in queste elezioni europee si fossero confrontati solo due campi, quello degli euro distruttori e quello degli euro compiaciuti, quello di coloro che vogliono distruggere, non cambiare, distruggere l'Unione Europea per ritornare alle piccole patrie, alle nazioni, ai nazionalismi, alle monete nazionali e coloro che non vogliono cambiare niente o che vogliono cambiare poco, che vanno a Berlino o a Francoforte o a Strasburgo o a Bruxelles col cappello in mano dicendo che hanno fatto o che faranno i compiti a casa e chiedendo in cambio qualche briciola. Ecco se il campo fosse ridotto a questi due poli noi crediamo che queste elezioni sarebbero elezioni perdute, perdute per tutti, se tra questi due poli, tra gli euro distruttori e gli euro compiaciuti o euro compiacenti o euro complici non ci fosse un'area consistente di euro critici, quali noi siamo, critici radicali dell'attuale Europa. Per questo crediamo che sia importante che questa lista riesca a far sentire la propria voce, è difficilissimo e avete avuto la misura anche in questi giorni, è un po' una lotta di Davide contro Golia, la nostra, e tuttavia è fondamentale che noi riusciamo a far sentire la nostra voce e noi riusciremo a far sentire la nostra voce se la campagna elettorale di questa lista camminerà nei territori, camminerà sulle vostre gambe, camminerà sull'azione e sull'iniziativa di una miriade di gruppi, di associazioni, di individui, di persone che si attivino. Non possiamo fare una campagna convenzionale dall'alto, non possiamo fare una campagna televisiva perché la televisione è contrapposta a noi, dobbiamo fare una campagna popolare con il vostro contributo fondamentale. Per questo quello di oggi è un primo appuntamento, altri ne seguiranno, sono presenti qui tra noi anche alcuni candidati della nostra lista, non tutti, altri sono impegnati nei territori, è presente Gigi Richetto della Valle di Susa, è presente Ollino di Asti, è presente il nostro straordinario candidato della Val d'Aosta che è stato fondamentale nel lavoro di raccolta delle firme e speriamo di riuscire a dare anche a loro la parola nell'ora e mezza che abbiamo di fronte. Io passo subito la palla direi a Alessandra Quarta che coordinerà questo incontro e vi ringrazio davvero di cuore della vostra partecipazione e di quello che farete nelle prossime settimane. Grazie. Buonasera a tutte e tutti, io proverò nel poco tempo che ho a disposizione per togliere la parola a tutti gli interventi di chi è seduto accanto a me, a provare ad illustrarvi quali sono le ragioni che ci hanno portato questo pomeriggio ad accostare tre temi così importanti per la vita delle nostre istituzioni e cioè il tema dell'Europa, il tema della democrazia e il tema della Costituzione. E questi discorsi si intrecciano fortemente con l'appuntamento elettorale del 25 maggio ma anche con l'attualità, con le notizie politiche che leggiamo in questi giorni e con l'attività del Governo. Da un punto di vista europeo credo che possiamo considerare che l'Unione Europea stia vivendo un momento di crisi esistenziale molto forte in cui le caratteristiche che hanno fondato il suo baricentro e cioè il tema delle libertà economiche fondamentali e del sistema concorrenziale del mercato conoscono una profonda crisi e le politiche europee che in questi anni hanno provato a rispondere a queste questioni lo hanno fatto introducendo delle misure di austerità che sono diventate via via più insostenibili e credo che l'esperienza della Grecia questo la dica lunga. E contemporaneamente hanno instaurato una politica governata dalla tecnocrazia che ha messo all'angolo il tema della legittimazione democratica delle istituzioni. La legittimazione democratica è sempre più precaria e la fiducia che pure c'era all'inizio del processo di costruzione dell'Unione Europea, una fiducia verso le virtù progressive dell'avanzamento del processo di integrazione dell'Unione, si è andata via via perdendo, dando la stura poi, il risultato delle elezioni francesi ce lo conferma ad antiche diffidenze e a pericolosi risentimenti nazionalistici. Questo è il quadro, il contesto che ci troviamo ad affrontare a livello europeo e dobbiamo tenere in conto anche un altro elemento che è la legittimazione democratica delle istituzioni e quindi la mancanza di fiducia progressiva a cui assistiamo. Si trova anche a fronte dell'assenza di una capacità politica di affrontare i temi di giustizia sociale e di redistribuzione delle risorse. Ecco, questi temi ci portano a dire che oggi rischiamo di passare da un deficit democratico che è molto forte all'interno delle istituzioni europee a un vero e proprio default democratico e a questo noi dobbiamo oggi reagire. Dobbiamo reagire perché dobbiamo essere in grado di avere una rappresentanza all'interno delle istituzioni europee che sappia portare un'idea alternativa di Europa, che sappia indicare che l'austerità e le politiche di austerità non possono essere l'unica ricetta economica e sociale da utilizzare all'interno dell'Unione Europea e che tornino a parlare, a far parlare e a diffondere, a praticare quella solidarietà europea che credo sia fondamentale per fondare un concetto di cittadinanza. Abbiamo davanti una scommessa democratica che ha un grande valore e una grandissima importanza a livello europeo, ma che ci chiama in causa anche nel nostro Paese. Ci troviamo di fronte a una realtà in cui il crollo dei partiti mette sempre di più in evidenza e porta all'emersione di leadership tutte legate alla persona, quindi leadership personali, con poi l'evidente rischio anche qui di un deficit democratico rappresentato da riforme istituzionali, quali ad esempio la riforma del Senato e la riforma della legge elettorale, che portano sempre di più a una compressione del pluralismo e della rappresentanza. Bene, io credo che a questi temi, sia sul fronte europeo che sul fronte nazionale, dobbiamo trovare una risposta e dobbiamo reagire. E dobbiamo reagire difendendo le istituzioni che abbiamo, non perché siamo conservatori, perché non possiamo arroccarci sulla posizione di chi voglia conservare lo status quo. Noi questa accusa la respingiamo, non siamo dei conservatori. Crediamo semplicemente che sia necessario reagire alla retorica delle riforme, che è incapace di tracciare una visione politica seria e percorribile di lunga durata, che è quella che invece troviamo nella nostra Costituzione e che ci consente di portare avanti ogni giorno le nostre lotte, quelle per il territorio, per l'ambiente, per i beni comuni, per il diritto al lavoro e per il diritto alla casa. Bene, io credo che abbiamo davanti a noi una scommessa democratica molto importante e significativa che dobbiamo necessariamente giocare e giocare per vincere. Il senso di questa iniziativa è questo, tenere insieme il tema della democrazia in chiave europea e in chiave italiana, difendendo la Costituzione per attuarla. Da qui partiamo e per questo abbiamo con noi per discutere di questi temi il professor Gustavo Zagrebeschi, che credo non abbia bisogno di ulteriori presentazioni, a cui chiederei il primo contributo del pomeriggio. Grazie mille. Intanto grazie per l'invito, grazie a tutti i partecipanti di qua e di là del tavolo. Io di questi tempi mi trovo sorpreso con me stesso, perché mi sembra di vedere delle cose così chiare, così chiaramente, e che però sembra che siano fantasmi, siano errori, siano visioni che non corrispondono alla realtà. Mi pare qualche volta di dire che il re è nudo e tutti mi dicono invece che ci dicono che il re è bello agghindato, va bene così, al massimo c'è qualche piccolo ritocco. Qualche volta francamente mi sembra di essere un marziano, di essere fuori del mondo, forse sbaglio o qualcuno di quelli che sono qui sbagliano con me, chissà. Però siccome chi svolge una professione intellettuale ha come suo obbligo professionale quello di dire quello che pensa in sincerità, senza doppi fini, senza strumentalizzazioni, e beh, io lo dico, e così come, scusate questa introduzione di tipo un po' personale, ma tocca problemi generali, così come io penso che noi che apparteniamo oramai a una generazione non più quella, dove il nostro candidato, il nostro candidato non so, forse è una generazione intermedia. Dobbiamo sottoporci alla critica dei giovani, e questo è normale, questo è perfino fisiologico, fa parte della successione della vita, e i giovani devono criticare gli anziani. Questo nella nostra vita personale, sappiamo come questo succede con i nostri figli, sappiamo che cosa abbiamo fatto noi rispetto ai nostri genitori, tutto questo è normale. Questo però non vuol dire che gli anziani debbano essere soppressi, no, come rottamati, o come in certe tribù dell'America del Nord, gli anziani venivano presi, portati in una capanna, denudati e cosparsi di miele, nella capanna c'era un termitaio, termiti lunghi e così, venivano chiusi lì dentro e al mattino si passava a ritirare lo scheletro pulito. Ecco, io non vorrei fare questa fine, anzi, penso che nella successione delle generazioni, questo conflitto, diciamo, giovani e anziani, fisiologico, come dicevo prima, debba essere mantenuto vivo, e quindi il nostro compito è continuare a dire le cose come anziani, poi vedremo come va a finire. o no? Adesso, venendo al tema specifico, cercando di dire nel modo più chiaro e sintetico quello che ho pensato, le riflessioni che ho pensato di proporvi, vorrei partire dall'idea fondativa dell'Europa, che trova molti testi classici, in Italia abbiamo il manifesto di Ventotene, di Altiero Spinelli, ma in quegli anni sono stati elaborati diversi altri progetti in Italia e in Europa. uno, per esempio, è stato elaborato da Duccio Galimberti a Cuneo, insieme a Antonina Repaci, che sarà ripubblicato recentemente. Ora, questi documenti italiani ed europei, sono stati numerosissimi, avevano tutti al centro l'idea che fosse terminata l'epoca dello Stato nazionale. Potrei, anzi, è necessario precisare, secondo questi progetti era finita l'epoca dello Stato, degli Stati. Gli Stati che si conoscevano allora erano gli Stati nazionali. Si imputava la grande tragedia della Seconda Guerra Mondiale alla natura stessa degli Stati. Gli Stati che incorporavano potere ed economia. Questa forza in cui una cosa alimenta l'altra non poteva, secondo questa analisi, che portare alla tragedia, allo scontro, allo scontro tra queste potenze, posto che sia l'economia sia il potere sono forze diciamo distruttive di convivenza. Perché l'accumulo di potere crea prepotenza credenza e impotenza nelle relazioni interindividuali ma anche nelle relazioni tra gli Stati. E l'accumulo di economia, cioè cos'è l'oggetto dell'economia? Il danaro, la ricchezza. L'accumulo di danaro e di ricchezza produce che cosa? Ricchi e poveri. Cioè sono due forze che lasciate a sé hanno effetti distruttivi di convivenza e la guerra tanto più la guerra mondiale è la riprova più evidente di questo effetto esplosivo rispetto alla pacifica convivenza tra gli esseri umani. E quindi ritornando a quei progetti forse di questi tempi sarebbe buona cosa riprenderli in mano anche per stabilire la distanza cioè quali erano le idee fondative e come siamo andati a finire. Il punto fondamentale è che si trattasse di superare come dicevo non gli stati nazionali ma la stessa idea di stato e di fond la vita politica economica culturale dei propri e dell'Europa in una forma di unità diversa da quella statale. Il timore da tutti denunciato era che se si fosse arrivati alla costruzione di una unità politica di natura europea si riproducessero a livello europeo i difetti degli stati nazionali. Diciamo erano progetti antistatalisti quelli. Ecco che cosa che cosa era l'alternativa? L'alternativa era l'Europa politica e questa visione naturalmente presupponeva la diciamo il rifiuto dell'idea tradizionale su cui Marco Revelli ci potrebbe intrattenere a lungo che la politica fosse sia il diciamo sia la materia dello Stato cioè la politica sta nello Stato e non c'è politica fuori dallo Stato. Ecco è una idea tradizionale. quindi era un grande progetto diciamo rivoluzionario anche dal punto di vista delle categorie concettuali e anche del nostro modo di vivere di stabilire i rapporti tra di noi. Una concezione politica quindi non una concezione economico statalista e la costruzione dell'Europa come voi sapete è iniziata attraverso una diciamo procedendo per una strada che diciamo aveva come punto di partenza l'economia unifichiamo l'economia europea e da lì si svilupperà necessariamente la dimensione politica dall'economia alla politica si potrebbe dire che in questa visione risuonano certe affermazioni di Karl Marx l'economia è la struttura la politica è la sovrastruttura solo che la politica in questa storia dell'Europa che abbiamo alle nostre spalle è sparita è sparita c'è solo più economia economia nella forma odierna che è l'economia finanziarizzata questo nostro incontro secondo me opportunamente mette insieme problemi europei e problemi nazionali perché le due storie sono due storie parallele quando parliamo di politica che cosa intendiamo non la politica degli antichi se la sto facendo troppo lunga soprattutto se sto partendo per esempio da Aristotele per ora per ora poi la politica degli antichi era diciamo così il buon governo se prendete Aristotele o meglio Platone siamo sempre quando quando si parla del politico dell'uomo politico e anche dell'attività politica si fanno dei raffronti con altre attività o altre arti per esempio si dice il buon politico equivale al buon ginnasta al buon al bravo tessitore al bravo flautista al bravo timoniere governatore colui che tiene la rotta tiene la rotta di fronte al vento che sposta la barca di qua di là il buon governante tiene la rotta per non parlare poi di Platone secondo il quale il buon politico è il filosofo cioè quello che ha lo sguardo rivolto alle idee al mondo delle idee e al compito di trasformarle in pratica ma quello che mancava nella politica degli antichi era l'idea della scelta della pluralità delle opzioni nel mondo moderno invece la politica è per l'appunto il luogo dove si devono poter confrontare idee progetti programmi illusioni perfino utopie tra le quali tra i quali i cittadini sono chiamati a operare delle scelte questa è la nozione moderna mi pare nessuno pensa che sarebbe una buona cosa metterci nelle mani dei filosofi per quanto ce ne sia più uno al quale faremo tutta la fiducia del caso no la politica è confronto è conflitto tra idee e programmi e naturalmente la democrazia è il regime politico in cui i cittadini sono chiamati a scegliere a militare e preferire una opzione rispetto all'altra questo è diciamo quello che a me pare evidente dicevo prima come il bambino innocente che dice il re è nudo se non c'è o non c'è più la possibilità di operare scelte quindi non c'è più politica non c'è nemmeno più ragione d'essere della democrazia perché se aboliamo la politica avremo sempre e semplicemente tecnica tecnica esecutiva e questa è una deriva che riguarda il nostro paese riguarda i paesi come come il nostro riguarda l'Europa che si è ampiamente burocratizzata luoghi dove la politica sta restringendosi sta sparendo la politica di cui parlavo prima e tutto sembra che sia legato alla esigenza dei diciamo della efficienza finanziaria cosa vuol dire poi efficienza finanziaria creare spazi che siano spazi di investimento che siano appetibili agli investitori dobbiamo renderci graditi agli investitori e per far questo dobbiamo essere disposti a rinunciare a elementi fondamentali della nostra tradizione politico costituzionale come lo stato sociale che si sta rimpicciolendo come i diritti nel mondo del lavoro che si stanno sfaldando in sostanza ciò che richiede questa politica ridotta a tecnica esecutiva è una rinuncia alle nostre grandi categorie politiche sulle quali da due secoli a questa parte si sono fatte grandi battaglie per l'appunto politiche adesso è perfino superfluo che io ricordi a quelli che sono qui presenti alcune emersioni di questa idea che viene considerata ovvia naturale quando ci è stato detto che si andiamo a votare in ultime elezioni ma tanto non cambierà nulla perché il governo i governi dovranno operare come con il pilota automatico ecco il pilota il pilota platonico automatico e un uomo di governo del nostro paese aveva detto che i governi devono educare i parlamenti ricordatevi due stati fa educare i parlamenti cosa vuol dire educare non facciamo nomi vorrei dire convincerli che le scelte non esistono più sono ubbie la strada è tracciata e noi dobbiamo solo necessariamente tenere i nostri conti in ordine affinché il debito nazionale sia acquistato dagli investitori internazionali perché se no è il tracollo se no è il fallimento tra l'altro vorrei richiamare la vostra attenzione su questa nozione di fallimento fallimento degli stati da costituzionalista questa espressione l'ho incontrata solo negli ultimi anni cioè che lo Stato possa fallire una volta ma forse solo dieci anni fa sarebbe sembrato un'aberrazione una sciocchezza lo Stato non può fallire lo Stato la comunità politica organizzata non può fallire è una struttura necessaria quando noi diciamo che lo Stato può fallire abbiamo applicato a questa nozione politica una nozione del diritto commerciale lo Stato come impresa commerciale allora naturalmente l'imprenditore commerciale non fa tante scelte politiche farà scelte esclusivamente tecniche per rimanere sul mercato e rimanere sul mercato nel caso nostro il mercato della finanza internazionale deve essere disposto a fare qualunque cosa pur di non soccombere cioè pur di non di non fallire e queste sono espressioni il pilota automatico bisogna convincere bisogna educare ma poi se guardiamo la vita politica come si è evoluta nel nostro paese mi sembra abbastanza evidente che le formule politiche cioè i governi delle grandi intese i governi che vogliono mettere d'accordo tutti quanti sono governi essenzialmente antipolitici perché la politica è scelta la politica è conflitto speriamo che non sia un conflitto distruttivo ma è diciamo almeno un confronto tra progetti idee innovazioni ma non c'è nulla di più conservativo conservatore che non l'accordo generale tra tutti che si fa poi per tenere fuori una parte naturalmente che si considera non non idonee a sedere al tavolo delle persone per bene e questa è la logica delle grandi intese che produce i governi tecnici per l'appunto e se noi ci riflettiamo non c'è nulla di più conservatore che non la tecnica quando noi chiamiamo a casa nostra un tecnico per ripararci il televisore per esempio scusate l'esempio banale non ci aspettiamo che quando se ne va via il nostro televisore sia un altro televisore ci aspettiamo che sia lo stesso riparato e lo stesso vale per l'idraulico per l'elettricista cioè il tecnico pone delle pezze corregge dei difetti ma sempre per mantenere ciò che c'è questo è un elemento fondamentale e anche le cosiddette politiche che vengono proposte di questi tempi 80 euro di sgravi sull'IRPEF negli stipendi sono cose naturalmente che noi non dobbiamo disprezzare perché per chi ne ha bisogno questo ed altro potremmo dire ma certamente sono delle pezze servono per mantenere l'ordine nello status quo quando un nostro primo ministro anche qui non facciamo nomi qualche tempo fa ha detto in autunno ci troveremo di fronte a gravi problemi di malessere sociale cosa vuol dire gravi problemi in quella logica dobbiamo fare qualche cosa per contenere per contenere il malessere e allora qualche provvedimento a favore di chi sta peggio qualche provvedimento a favore dell'impresa perché non succedono queste cose terribili che oggi non fanno nemmeno più notizia cioè i suicidi per ragioni economiche di condizione economica tra i lavoratori tra i piccoli imprenditori tra i medi imprenditori sono tutti chiamiamo politica il rattoppo questo è un altro segno del degrado e naturalmente qui per e questa sarebbe solo l'introduzione ma due due parole perché la lista cipras che noi tutti ci auguriamo che possa avere un gran successo ma sarebbe anche un gran successo se una piccolissima pattuglia entrasse al Parlamento europeo per la punta per portare idee politiche cioè smuovere lo stagno proporre alternative alla non politica dell'Europa finanziaria in sostanza introducendo poi elementi di giustizio tra i paesi di questo parleranno parlerà abbiamo parlato la nostra candidata e parlerà anche Colzio Maltese e forse anche Ugo non ne so non ne parlerò io ecco per venire al tema istituzionale del nostro paese ecco quello che impressiona non sono tanto le proposte puntuali l'abolizione del Senato o la trasformazione del Senato in una Camera rappresentativa di di che vi chiedo Presidenti di Regione sindaci di grandi città sindaci eletti tra quelli delle più piccole città 21 individui che sembrano una classe tra virgolette dell'Accademia dei Vincei nominati ecco non si capisce che cosa quello che si capisce è che un organo di quel genere sarebbe politicamente depotenziato sarebbe un organo rappresentativo ripeto non so di che ma se di qualche cosa di interessi amministrativi non sarebbe certamente un organo equivalente dal punto di vista della logica politica con la Camera dei Deputati poi voglio dire si possono fare tante riforme ma quello che colpisce è l'idea di togliere questo altro o contro potere rispetto all'accentramento della politica nella Camera dei Deputati e l'altro elemento che inquieta è la legge elettorale legge elettorale che è fatta apposta per diciamo impedire alle alle forze nascenti piccole che sono quelle portatrici di novità prima di affermarsi devono essere piccole nessuno si afferma nessuno conquista la maggioranza assoluta al primo colpo ma la vita politica è fatta di è alimentata non dai numeri questa è una concezione brutale della vita pubblica e della democrazia la democrazia deve essere alimentata da idee poi le idee possono conquistare consenso e quindi farsi anche numeri bene la legge elettorale con quel meccanismo assurdo delle soglie minime di accesso in nome della governabilità parola nobilissima ma inserita in questo contesto parola alquanto inquietante la legge elettorale è nata con l'idea di far fuori queste forze oppure di costringerle a apparentarsi con le due forze maggiori dicendo loro apparentatevi contribuite alla vittoria di uno o dell'altro schieramento ma a voi non sarà data neanche una poltrona in Parlamento dovete solo contribuire i seggi saranno attribuiti solo al più forte della coalizione mi sembra una cosa ragionevole perché mai un piccolo raggruppamento dovrebbe portare acqua ma se lo fa è perché riceverà in cambio qualche promessa diciamo di sotto governo di sub politica di cose non dichiarate e poi questa legge elettorale è fatta in maniera tale che ci sarà un confronto tra le due forze maggiori e le loro coalizioni e chi vince prende una con un sistema se non entriamo nel dettaglio o a primo turno o a doppio turno prende la maggioranza alla Camera che sarà l'unico organo politico e dalla Camera governerà il Paese esprimendo il proprio capo del governo il proprio governo anzi ho detto esprimendo il proprio capo del governo sarà il contrario perché nella condizione italiana qui i miei colleghi costituzionalisti dicono ma qui ma guardiamo la Germania guardiamo l'Inghilterra guardiamo la Spagna sembra che le riforme costituzionali si facciano come uno che entra nel supermercato e prende una scatola di qua una scatola di là prodotto in Spagna prodotto Hong Kong che si facciano così ma la realtà è che noi abbiamo dei partiti politici come si diceva prima che non esistono più come partiti sono semplicemente il prolungamento del leader del capo ma allora il capo del partito avrà il suo prolungamento nel partito perché potrà controllare le candidature perché nessuno di noi andrà a scegliere i nostri rappresentanti dovremo aderire alle proposte che vengono dai vertici del partito e a quel punto il gioco è fatto e cioè avremo una crocco di potere in alto in forme democratiche ma le forme spesso soprattutto quelle della democrazia si prestano a essere svuotate dall'interno in più questo confronto tra i due maggiori partiti ritorno alla domanda iniziale è un confronto politico cioè tra concezioni tra visioni a me pare che nella situazione italiana sia o sarà semplicemente un confronto tra diciamo tra gruppi di potere che naturalmente hanno delle differenze tra di loro ma sostanzialmente stanno nello stesso alveo e difatti i due maggiori partiti al momento collaborano tranquillamente al governo non non avere idee politiche ma essendo uniti dall'idea della conservazione di ciò che c'è poi ci dicono che noi siamo conservatori perché non vogliamo la riforma del senato così come è stata prevista non vogliamo la riforma della legge elettorale e va bene siamo conservatori grazie scusate grazie al professor Zagrebeschi lascio la parola a Curzio Maltese editorialista di Repubblica e capolista della nostra lista d'altra Europa con Cypress qui nella nostra circoscrizione nord ovest grazie buonasera io intanto sono l'unico capolista maschio della lista Zipras me ne scuso moltissimo però non l'ho chiesto come Revelli può testimoniare ma d'altra parte anche se avessimo messo tutte capoliste donne non avrebbero parlato di noi comunque anche perché le nostre sono preparate e quindi non fanno notizia poi nel clima politico generale se noi avessimo io sono in politica da poco tempo e l'effetto immediato per fare anche una piccola premessa personale è che la mia considerazione diciamo del personale politico nazionale è molto scaduta e chi legge Repubblica sa che non era diciamo siderale già prima e però mi sta scadendo e questo mi addolora di più anche la considerazione diciamo dei colleghi che si occupano di informazione perché se ci fosse un'informazione normale in questo paese io sarei sicuro che Tsipras il 26 maggio sbanca festeggiando risultati elettorali clamorosi perché i fatti sono quelli se stessimo facendo una vera campagna europea con temi europei direi che c'è poco da scegliere cioè da una parte c'è l'Europa del pilota automatico come diceva giustamente Zagrebelsky cioè quelli che vanno avanti così con l'austerità e ormai mezza Europa è governata da governi coalizione destra-sinistra dove la sinistra sposa perfettamente le idee della destra e si va avanti su queste politiche che sono politiche cominciate in questo modo dall'inizio della crisi 2007 cioè politiche d'Italia allo stato sociale grandi salvataggi delle banche di grandi squilibri europei per cui i paesi dell'area mediterranea che sono simpaticamente definiti PIGS Portugallo Italia Grecia Spagna poi fanno anche dei convegni contro il razzismo però perché sono carini a noi ci chiamano porci però e se la prendono con gli xenofobi questi paesi sono sottoposti chiaramente a un dominio di interessi economici da parte dei paesi del nord Europa che hanno sperimentato come laboratorio in Grecia e si apprestano a sperimentarlo dove è più importante farlo cioè in Italia con le politiche legate al fiscal compact dall'anno prossimo però non siamo in questa e questa è una parte dove sinistra e destra stanno assieme purtroppo io lo dico con dolore perché sono un elettore del PD non è che ho votato chissà che cosa in tutti questi anni e oggi io è passato poco tempo da quando c'erano quella specie di straordinaria guerra mobilitazione tra destra e sinistra sui principi sui valori eccetera oggi fa notizia se qualcuno di Forza Italia amminaccia di non votare insieme a Renzi cioè un anno fa Bersani era costretto a dire mai naturalmente essendo già il PD d'accordo per fare il governo dell'argentese ma era costretto a dire al proprio elettorato mai faremo un governo con Berlusconi oggi invece come dire si è rovesciato completamente il campo e non si capisce su quale tema concreto il PD la pensi diversamente da Forza Italia io se c'è qualcuno in sala che me lo ricorda perché io non mi ricordo più perché sul fiscal compact hanno votato sulle cose importanti fiscal compact hanno votato assieme i vincoli europei l'austerità hanno votato assieme sui tagli e sulle privatizzazioni sono d'accordo su sulle riforme istituzionali sono d'accordo io peraltro questa riforma del Senato io sono contro il bicameralismo perfetto per l'abbattimento dei costi della politica che si potrebbero ottenere in maniera molto più semplice perché è molto disonesto mischiare il discorso dell'abbattimento dei costi della politica con il Senato perché se tu oggi chiedi alla gente come dire anche ti dicono anche abolita già che ci siamo anche la Camera il Quirinale cosa secondo me da valutare perché il Quirinale diciamo costa un sacco di soldi ed è una sottrazione di un bene artistico che potrebbe essere per il turismo molto insomma ti aboliscono tutto allora se vogliamo poi alla fine si è visto come la riforma in province che i risparmi reali sono risibili se noi vogliamo bisognebbe separare questi due campi se noi vogliamo fare un taglio al costo della politica serio visibile che si possono dimezzare gli stipendi dei parlamentari e dei consiglieri regionali che sono scandalosamente alti rispetto alla media europea dimezzare nel complesso non solo gli stipendi la massa di privilegi e questo sarebbe un segnale concreto invece di cominciare dai super manager cominciassero da loro quello è un segnale concreto è che di volontà di ridurre i costi della politica ma mischiare la riduzione dei costi della politica è tra l'altro una cosa che si può fare una settimana senza bisogno di nessuna legge costituzionale o di riscrivere 40 articoli della Costituzione quello è una cosa che invece non fanno e però promettono che faranno dei grandi tagli ai costi della politica infilando nel pacchetto però cose che servono ad altri scopi in particolare questa riforma del Senato è identica a quella che proponeva Berlusconi oggi l'atteggiamento di molti giornali e di molta parte dei media è cambiato nei confronti di queste proposte perché le propone Renzi lo scenario anche è che i giornali prospettano e che intanto se una cosa la fa la sinistra non si capisce anche se è la stessa cosa però è meglio che se la fa la destra poi loro pensano che questa diciamo questa cosa sia destinata a durare a lungo ormai c'è un coro dei giornali dei media che pensano che sia cominciato un'era che dura vent'anni tutti i giornali e tutte le televisioni sostengono Berlusconi ormai è finito la destra è finita Renzi durerà 50 anni io per carità faccio giornalista tanti anni e so che quando la maggioranza dei media dice una cosa si realizza sempre ci azzeccano sempre è sempre successo fino adesso però pongo anche l'ipotesi essendo di natura un bastiano contrario che invece non vada così che invece magari il governo Renzi non vada così bene tra un anno che invece non esiste nessuno che ha la bacchetta magica e siccome ha i devincoli europei che valevano per il governo Monti che valevano per il governo Letta e che questo governo non ha nessuna intenzione perché non ho mai sentito nessuno di questo governo che abbia detto una parola vera contro il vincolo europeo ho sentito Renzi alle slide dire che avrebbe portato neanche sforato il 3% ma che avrebbe messo come copertura del taglio IRPEF il differenziale tra il 2,6% e il 3% i famosi 6,4 miliardi poi è andato dalla merca e è tornato i 6,4 miliardi non c'erano più nelle coperture quindi non mi sembra che questo governo abbia una posizione diversa rispetto all'austerità ha un atteggiamento più simpatico nei confronti e più abile dal punto di vista comunicazione quindi siamo in fondo a una politica del pilota automatico e se questa politica dovesse diventare rapidamente impopolare come lo è stato noi potremmo trovarci tra un anno la destra berlusconiana con Berlusconi il figlio il nipote dell'utile rimpatriato eccetera che governa con tutte le riforme che voleva istituzionali fatte dalla sinistra e benedette da tutti gli organi di stampa e di televisione della sinistra come cose meravigliose è il delitto perfetto questo è quello sì voglio dire le stagioni poi alle mode in Italia passano rapidamente bisogna stare attenti e ci sono le cose che durano le cose che durano sono le cose concrete cioè il fatto che noi siamo immersi ormai in una concezione dell'Europa che è quella che è stata descritta un'Europa che serve a difendere gli interessi già forti che è dominata molto dalla finanza che ha speso cifre colossali negli ultimi anni principalmente per salvare i sistemi bancari che sono all'origine di questa crisi e che ha fatto ricadere i costi della speculazione finanziaria sulle spalle dei cittadini dicendo che è colpa loro se il debito pubblico cresce idea completamente come un'ideologia perfettamente liberista che è stata purtroppo ripeto con dolore sposata anche dalle sinistre europee che negli altri paesi hanno pagato prezzi enormi per questo la sinistra greca che è glorioso Pasok che si è opposto ai colonnelli è passata in pochissimi anni dal 40% al 12% da qui il trionfo di Siriza e di Tsipras in Germania i governi di grande coalizione hanno portato i socialdemocratici tedeschi dal 40% al 25% qui in Italia ancora io spero anche che non accada ma ancora non è accaduto perché come dire stiamo parlando d'altro ma quando si tratterà di fare cose concrete temo che questo sia anche l'effetto sul quadro politico italiano dall'altra parte c'è semplicemente come dire l'anti-euro cioè l'anti-europeo usciamo dall'Europa usciamo dall'euro torniamo agli stati nazionali torniamo alla lira in qualche caso anche allo scudo al baiocco allo zecchino perché poi può darsi anche torniamo al Ducato di Parma Guastalla cioè ci sono compaiono ormai soluzioni bizzarre ed è uno schieramento che è piuttosto composito del quale fa parte in Italia una serie di partiti tra i quali Grillo Grillo anche lui se si parlasse in concreto Grillo ha rifiutato come dire la proposta Grillo non ha apparentamenti in Europa non appartiene Sipres appartiene a una sinistra che ormai incarna diciamo i valori tradizionali della sinistra socialista europea visto che la sinistra socialista europea ha sposato il liberismo noi siamo rimasti a quella al fatto che per noi è molto più importante creare posti di lavoro che salvare banche che dovrebbe essere un concetto piuttosto diffuso per chi è di sinistra e dall'altra parte c'è questo fronte anti-europeista anti-euro dove le posizioni sono identiche la Le Pen ha chiesto un'alleanza con Grillo che come sapete non trova alleati in Europa è un fenomeno molto italiano molto efficace in Italia tra l'altro è molto anche originale secondo me nell'analizzare il quadro politico italiano Grillo è molto meno efficace e molto meno originale in Europa dove ha sposato questa cosa che normalmente è delle destre nazionaliste nel resto d'Europa il fronte nazionale ha chiesto a Grillo un'alleanza a Grillo ha rifiutato la Le Pen giustamente si è offesa dicendo ce l'avrà con me e ha ragione perché siccome i programmi sono uguali si sarà domandata forse sto antipatica io a Grillo non c'è un'altra ragione concreta nel senso che se tu non sei d'accordo siccome loro sono d'accordo con la Lega del resto infatti poi Grillo giustamente va in Veneto e fa l'elogio dei secessionisti perché non c'è neanche una differenza in concreto quindi la nostra posizione è l'unica originale non solo in Italia ma in tutta Europa rispetto agli altri noi non vogliamo quella politica la continuazione il pilota automatico ma non vogliamo neanche sfasciare tutto vogliamo andare al governo con le sinistre vogliamo non dividere la sinistra come dico ogni tanto ma dividere la sinistra dalla destra e andare al governo in Europa e presentare un modello diverso di Europa politica solidale l'Europa che si preoccupa appunto di creare posti di lavoro e non di salvare le banche l'Europa degli eurobond dove il debito pubblico è un debito pubblico non è che negli Stati Uniti il debito pubblico dell'Alabama è un problema dell'Alabama che sarebbe fallito da tempo è un debito pubblico di un'unione che sia un'unione politica solidale e che difenda una l'unica possibilità che abbiamo noi di rendere come dire io non credo che ci si possa opporre alla globalizzazione si può umanizzare il processo di globalizzazione e l'unico modello per umanizzare il processo di globalizzazione è il modello dell'Europa dei padri di quello di Antonio Stinelli dell'Europa dello Stato sociale della protezione dei cittadini della giustizia sociale che capisco non sia più un argomento di moda ma per me lo è e lo è per molti milioni di cittadini credo che se lo pongono tutti i giorni e tutti i mesi questo ci renderebbe fortissimi sul piano dell'offerta politica come dicono gli spin doctors il problema è che non si sta parlando di questo si sta facendo un teatrino dove si parla di cose irrilevanti cioè in Italia siamo riusciti a approvare il fiscal compact in cui ci sono state furibonde discussioni in altri paesi in qualcuno anche il referendum noi siamo riusciti a approvarlo e il giorno dopo non si parlava già più di quello si parlava ancora degli effetti della riforma Gelmini perché poi sono bravissimi a parlare di stupidaggi voi vi ricordate la riforma Gelmini quella cosa bellissima col grembiulino il voto al posto del giudizio la maestra che deve essere unica perché ci si affeziona quella riforma ha distrutto la nostra scuola elementare che era l'unica che ancora funzionava fatto mandato a casa decine di migliaia di persone che lavoravano e ci renderà un paese ancora più meno competitivo sul piano della cultura della preparazione individuale di quanto già non siamo e così si parla di stupidaggini noi siamo rassegnati e il nostro sforzo è quello di riportare i temi importanti perché stiamo avviati a discutere per un altro mese di sciocchezze tipo cambiare il nome delle province che non fa risparmiare nulla oppure c'è la trovata di quello che candida tutte le e l'altro che gli risponde quello che fa il fotomontaggio di Auschwitz e tu cose peraltro di pessimo livello ma che sono comunque hanno un denominatore comune sono idiozie non serve a niente non stiamo discutendo di nulla di concreto di nulla di importante per le nostre vite la proposta di Tsipras parla delle vite delle nostre vite del fatto che in Italia ci sono il 12% di disoccupati e il 42% di giovani disoccupati come si può fare per usare i mezzi che sono enormi di un'unione politica europea per risolvere questo problema che è il nostro principale problema e non altri come si possono usare le risorse le scelte quali sono le scelte politiche da fare per rendere delle società che sono hanno visto impazzire gli indici di come dire sociali negli ultimi anni i ricchi diventare sempre più ricchi i poveri sempre più poveri in tutto il mondo in tutta Europa e in particolare in Italia come si possono correggere e ridistribuire le opportunità queste sono le cose importanti io invito tutti intanto a parlare di questo a guardare questo teatrino della politica dove si discute fondamentalmente di nulla di trovate c'è ci sono dei sistemi né Renzi né Berlusconi hanno inventato nulla ci sono dei sistemi di settimanalizzazione come dire degli eventi politici che sono stati usati in campagna elettorale americana già dagli anni 60 cioè ti inventi una trovata che non significa niente ogni settimana ma occupi tutto il centro della scena in modo che non si possa discutere dei problemi seri noi abbiamo questo grande territorio e sul quale siamo fortissimi che ci occupiamo delle questioni importanti vere e serie del paese e delle urgenze del paese che sono principalmente il lavoro che sono poi quelle che tutti conosciamo che sicuramente non sono il cambio di nome del province o il senato l'improbabile senato delle autonomie come si chiama non mi ricordo anche più insomma e altri vaghi pasticci istituzionali e altre trovate pubblicitarie che ci verranno propinate temo per tutto il resto della campagna elettorale sia da i sostenitori come dire dello status quo sia dagli altri che non hanno nessun interesse a spostare la discussione su temi concreti peraltro Grillo dovrebbe secondo me ringraziare tutta la invece di attaccarle la televisione e la stampa italiana perché intanto gli sta dando ragione cioè si stanno comportando tutti come se fossero dello stesso partito contro un solo avversario politico che è la principale arma di propaganda di Grillo secondo perché in questo modo ovviamente lo stanno favorendo vista anche la considerazione generale che in questo paese abbiamo noi giornalisti vi ringrazio adesso la parola al professor Luciano Gallino a sorpresa buonasera a tutti tra i diversi punti i tre punti che ha indicato Revelli all'inizio di una cosa sull'unione europea come c'è Europa con una sommessa liberazione del principio abbiamo visto l'idea di un'Europa unita nel senso federale è una grande magnifica utopia politica e civile è una cosa che va comunque realizzata quali che saranno i tempi e gli sforzi che saranno eserciati sulla strada di questa realizzazione di una porzione di questa utopia c'è un grosso ostacolo che sono i difetti strutturali dell'Unione Europea sono difetti che si riassumono dal fatto che in trattato in trattato Europa 57 Comunità Europea il trattato di Mastro in 1992 la Comunità di l'Unione Europea il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea di Lisbono in 2007 beh man mano che arrivavano nuovi trattati la UE si veniva sempre più configurando come un patto fondamentalmente economico tra gli stati di Maggi un patto economico di cui il massimo scopo è la liberalizzazione della transa dei movimenti del capitale degli scambi commerciali dei servizi e delle forze di lavoro a condizione che siano private di ogni diritto in forza del PM3 di liberalizzazione qualunque altro scopo dalla piena attuazione all'attuazione di una giustizia sociale appena ragionevole oppure il tema delle disuguaglianze è menzionato nel passaggio in tutti questi trattati e complessivamente sono parecchie centina di parte sono menzionati nel passaggio come esito eventuale accessorio delle suddette liberalizzazioni l'insegna di un'economia altamente competitiva che è la grande idea alla base del trattato di Sbona che costituisce il funzionamento di un lavoro qualsiasi altro scopo la piena occupazione una ragionevole giustizia sociale il contrasto alle visite di altre è menzionato qui e là di passata soltanto come esito eventuale delle suddette liberalizzazioni e a condizioni che non ostacoli le suddette liberalizzazioni in aggiunta i trattati UE hanno inventato la banca centrale alla quale caso assolutamente unico in modo è vietato fare quello per cui le banche centrali sono state storicamente istituite da quando fin del secolo si è istituita la banca dell'invitero lo scopo è prestare denaro costato quando la situazione lo richiede questo lo dice non lo può fare perché l'articolo 100 miliardi ha fatto via l'invitero ci sono stati ci sono esistiti pesantemente negativi di questo primato assoluto che i trattati UE assegnano a economia e finanze uno è stato il forte aumento delle disuguaglianze di reddito e di ricchezza iniziato fino all'entrata di l'opera in vent'anni la quota salare sul PIL tanto dicendo il percettuale i salari e i stipendi del reddito da lavoro sul PIL è diminuita in media nei paesi UE di ben dieci punti si tratta in complesso di migliaia di miliardi di euro che in Italia in Germania in Francia e altrove sono passati dai salari ai profitti e alle rendite con un proporzionale declino della quota dei contributi che alimentano la spesa sociale per cui uno può dire apra ma quanto costano le pensioni la sanità i maestri gli asili eccetera mille miliardi in dieci anni o qualcosa di più che sono passati in differenti paesi in ciascuno i differenti paesi dai profitti dai salari dal lavoro alle rendite poi è scoppiata la crisi del 2008 che ha una fortissima componente europea non credete alla storia che gli Stati Uniti brutti e cattivi hanno creato una crisi e poi noi la dobbiamo sopportare l'Europa ha liberalizzato la finanza almeno dieci anni prima degli Stati degli Stati Uniti la finanza europea e i governi europei hanno in questo campo grandi responsabilità comunque arriva la crisi del 2008 e i governi europei meglio i vertici della dirigenza dell'Unione europea mostrano tutti i loro limiti istituzionali perché sbagliano totalmente la gestione della crisi si inventano le politiche di austerità che sono esattamente il contrario di quello che bisognava e bisognerebbe fare quando l'economia non va bene e i risultati sono stati disastrosi alla popolazione della Grecia tanto per tanto per dire sono state inflitte privazioni insensate e inumane al tempo stesso e grazie ad esempio allo smantellamento del sistema sanitario di massissi tagli di salari e pensione alle privatizzazioni e non è un caso che sia stato scelto come candidato alla presidenza della Commissione europea un greco sì sia per il valore simbolico di tale scelta sia per ricordare che se non si cambia la U dell'interno se non si cambiano i trattati se non si interviene sui tanti non solo trattati ma direttivi per patti di ogni genere eccetera e altri paesi tra cui la Spagna Portogallo e l'Italia faranno presto la fine della Grecia se c'è qualcuno esperto o addentro a quello che sta succedendo nel sistema sanitario nazionale nostro se lo faccia raccontare a livello europeo i disoccupati superano ormai i 27 milioni che sono 6 o 7 milioni più di quando non fossero nel 2007 e ci sono 120 milioni cioè un quarto della popolazione dell'Unione che sono o povere o a rischio di povertà e qui siamo arriviamo alla lista da Tsipras la lista da Tsipras propone una piattaforma politica che va in direzione opposta ai dettati della troica formata dal Fondo Monetario Internazionale la Commissione Europea la BCE e il Consiglio Europeo formato dai capi di Stato e di Governo che è un ente assolutamente micidiale perché molte delle peggiori cose che sono state introdotte anche di recente compresi i giochi relativi al cosiddetto patto fiscale provengono dal Consiglio europeo quindi bisogna porre fine al più presto alle politiche di austerità insistendo sul fatto che le politiche di austerità di economico finanziario tecnico monetario non hanno proprio niente sono un progetto politico fatto in modo da accentuare la distribuzione del reddito della ricchezza dal basso verso l'alto e cercando di mantenere il più possibile quieta ci sono delle difficoltà ma insomma cercando di mantenere quieta il più possibile la popolazione dell'Unione Europea la popolazione europea bisogna mettere in piedi un programma di ricostruzione economica qualcosa che mette insieme o a fianco il piano Marshall ma anche un new deal europeo che non abbiamo inventato noi è un'idea che gira per l'Europa ma a cui noi nel programma che verrà fuori tra un po' di giorni abbiamo messo a punto un programma di ricostruzione che abbia al centro la creazione diretta e rapida di posti di lavoro perché si si aspetta che gli spiccioli gli sconticini un po' di incentivi a pioggia producano occupazione e beh possiamo veramente aspettare ancora una generazione o due va bloccata la ridistribuzione del reddito dal basso in alto che ha caratterizzato un po' dovunque il primo ventegno dell'Unione il primo ventegno dell'Unione questo meccanismo va bloccato tra l'altro chi ne ha sofferto sono stati anche i lavoratori tedeschi perché i lavoratori tedeschi hanno i salari bloccati i salari in termini reali da più di 12 anni i forti incrementi di produttività realizzati dall'industria tedesca sono andati tutti a diminuzione dei prezzi di modo che tutti noi possiamo comprare Volkswagen a minor prezzo e hanno ingigantito i profitti delle grandi corporation tedesche se l'attuazione del fiscal compa che in realtà sono due cose diverse perché da un lato c'è l'obbligo del pareggio di bilanci scritto in costituzione dai nostri deputati che o non sapevano che cosa facevano quando l'hanno approvato o peggio ancora lo sapevano ed erano complici di questa idea sciagurata però ci sono pezzi di essi del cosiddetto patto fiscale che si possono mettere in discussione tra cui la riduzione del debito da parte degli stati membri fin verso il 60% circa il rapporto debito PIL al ritmo medio di un ventesimo l'anno la notizia di oggi il debito italiano ha passato i 2.100 miliardi e si potrebbe anche ridurre di un ventesimo l'anno senza troppo soffrire basterebbe che il PIL crescesse del 4,5 5,6% l'anno sui arritmi più o meno cinesi ma per i prossimi 8-10 anni noi cresceremo lo 0, qualcosa e quindi non solo decine ma tra qualche anno centinaia di miliardi continueranno a essere sottratti agli incassi dello Stato per pagare il debito per soddisfare a quelle incredibili causole che i nostri deputati hanno tradotto in legge impiegando 3 o 4 minuti forse 10 quanti se ne dedica alla coltivazione delle mele in Trentino o cosa del genere nel 2012 questa attuazione va bloccata non solo per l'Italia tenendo conto che è probabilmente materialmente impossibile anche per altri paesi e non soltanto per l'Italia ma la BCE andrebbe conferito lo statuto di una vera banca centrale e ce l'ha la banca d'Inghilterra la banca del Giappone la banca della Svizzera che può autonomamente stampare monete e prestare denaro allo Stato e mettere in circolo più o meno denaro a seconda delle esigenze la BCE non può farla mentre la nostra cosiddetta banca centrale autorizzata a prestare denaro alle banche private non può prestare allo Stato ma può prestare alle banche private al tasso che è stato dell'1% ma adesso pensano di ridurlo perché le banche hanno protestato un po' dopo di che cosa fanno le banche comprono i titoli di Stato che rendono il 3,5 il 4 o il 5% l'anno l'ultima cosa che fanno è prestare soldi alle piccole medie imprese e altre cose del genere e poi c'è la storia del Parlamento Europeo il Parlamento Europeo è l'unico organo elettivo che abbiamo e il fatto è che non conta niente o quasi Martin Schulz magari se la prende ma il fatto è che per il momento il Parlamento Europeo ha in alcuni settori un certo diritto di veto e poi attraverso votazioni di cittadini che coinvolgano almeno un milione di persone può proporre qualche tipo di modifica a delle direttive dell'Unione Europea però sta il fatto che uno degli scopi che ci dobbiamo proporre è quello di accrescere sostanzialmente i poteri del Parlamento Europeo come unico organo elettivo dell'Unione bisogna dire che alcuni elementi della piattaforma che ho ricordato potrebbero anche essere attuati interpretando in modo un po' meno passivo e un po' meno incompetente perfino alcune clausole dei trattati quali esistono però la maggior parte richiederebbe una coppiosa revisione dei trattati concludo dicendo ma certo quale potrebbe essere la forza di attrazione a livello europeo di una lista che propone un programma simile ma è piuttosto difficile dirlo in Italia come in Francia e in Germania i partiti che continuano a etichettarsi di sinistra o magari di centro-sinistra sono lontanissimi da qualsiasi punto di questo programma i laboristi inglesi socialdemocratici cittadeschi i socialisti i socialisti francesi e quel partito italiano che non mi ricordo come si chiama hanno perso totalmente è impressionante hanno perso totalmente la cultura politica che sarebbe necessaria per poter discutere seriamente delle azioni dell'Unione Europea come dei trattati che adesso si collegano sono rimaste le etichette ma i contenuti che furono importanti ad esempio nel creare tra il 45 anzi tra il 42 perché cominciarono gli inglesi sotto le bombe tedesche tra il 45 e gli anni gli anni 60 hanno creato quella grande istituzione europea che è lo Stato sociale un'idea assolutamente fondamentale alimentata da culture politiche molto diverse i comunisti cristiano-sociali social-democratici prima di Schroeder parecchi anni prima di Schroeder e altre culture liberali eccetera hanno alimentato questa grande idea i danni che possono infliggere a una persona o a una famiglia l'incidente la disoccupazione la povertà la malattia sono così gravi sono così devastanti che è un principio civile morale fondamentale che la collettività se ne faccia carico e non chieda fin dalla nascita al nascituro o alla nascitura di farsi una pensione integrativa o un'assicurazione sanitaria negli Stati Uniti ad esempio in California dove ho passato un paio d'anni bastano 30.000 dollari l'anno per farsi una buona assicurazione sanitaria per 4 persone con il Jobax probabilmente un contributo in questo senso si può trovare quindi la cultura politica diffusa che possa sostenere proposti di questo genere ahimè non c'è ci sono molti segni che ci sono tante persone includerei anche i presenti tra di esse che sono proprio stanche dell'Unione Europea ma al tempo stesso non vorrebbero affatto lasciare cadere l'utopia che ebbe tra i padri fondatori Altiero Spinelli di un'Europa che al primo posto colloca in una costituzione ideale la libertà la democrazia partecipativa i diritti civili il lavoro un'esistenza dignitosa per tutti piuttosto che quello che ci chiede il trattato nella sua versione consolidata della UE che è l'impegno a morire per la liberalizzazione dei movimenti di capitale già abbiamo avuto Danzig e altre cose anche i movimenti di capitale non ci attirano più tanto e da quel che sta succedendo in Italia sono queste persone che trova interesse nelle proposte concrete specifiche tra un giorno o due Guardorelli dovrebbe andare in rete essere diffuso il programma che è lungo dettagliato e concreto e bisogna vedere se si riescono a moltiplicare le persone che di fronte alla mancanza totale di idee in tema di Europa dei partiti tradizionali ed è quel generico ribellismo un po' da sfascia carrozze che accomuna le formazioni populiste che stanno crescendo in molti paesi e cerchino di fare qualche passo sulla strada della realizzazione dell'utopia che ho ricordato grazie grazie mille al professor Lino adesso l'ultimo intervento del professor Ugo Mattei intanto grazie per essere venuti qui così numerosi e voglio iniziare anch'io con un mini passaggio personale che però è anche un ringraziamento a Marco Revelli perché abbiamo avevamo provato insieme a fare una cosa simile che era non mi ricordo più come si chiamava ma insomma cambiare si può ecco un po' di tempo fa esatto lasciamo perdere però invece Marco ha insistito io pensando che fosse una cosa che andava in quella direzione all'inizio sono stato molto tiepido poi però girando per le mie cose che faccio normalmente di politica dei beni comuni nei luoghi delle lotte eccetera mi è parso di vedere che su questa ipotesi della lista cipras ci fosse effettivamente più entusiasmo e più partecipazione e questo davvero lo dobbiamo a Marco che è riuscito a far partire sì sì tu più di tutti gli altri che è riuscito a far partire con testardagine questo cammino io penso che sia più importante il processo dell'esito questo l'ho detto anche alla prima uscita che abbiamo fatto qui a Torino raccogliamo le firme con gioia perché sembra un ostacolo ma in realtà è la prima opportunità che abbiamo di parlare di questi temi e alla fine avremo un vantaggio dal processo di raccolta delle firme e mi pare che così sia stato chi è andato a raccogliere le firme ha potuto parlare d'Europa la nostra lista è stata la prima lista a parlare effettivamente d'Europa e noi dobbiamo semplicemente continuare a fare questo nelle prossime settimane nei prossimi mesi fino al momento delle elezioni per una cosa molto semplice molto chiara anche di grande serietà che è quella non mettiamoci nella testa in nessun modo che si possano vincere queste elezioni e che se anche si vincessero queste elezioni nel senso che si prendesse una maggioranza del Parlamento Europeo le cose potrebbero cambiare perché il quadro che abbiamo visto e che è stato tracciato da tutti gli interventi da quello di Gallino e da quelli precedenti ci dimostra una crisi tale di questo modello di sviluppo che stiamo vivendo che certamente non può essere cambiata da un Parlamento Europeo quello è un pezzettino di un tassello di un grande cammino che dobbiamo fare perché questa è una fase storica nella quale è necessario prima di tutto un cambiamento di senso comune e vorrevo fermarmi brevemente su questa ipotesi ossia sul fatto che questo tipo di esperienza che stiamo cercando di fare con la lista Tsipras può avere un grande senso nel momento in cui si collega e diventa parte di una rete trasformativa del modo di pensare di percepire la nostra realtà politica che in due secondi tratteggerei così noi stiamo vivendo con degli assetti istituzionali che erano nati nel momento in cui c'erano tantissimi beni comuni e pochissimo capitale e quindi la nascita della modernità e delle istituzioni giuridiche e politiche della modernità è avvenuta per cercare di trasfermare un po' di beni comuni in capitale perché c'era necessità di una qualche tipo di concentrazione di capitale per poter mettere in piedi le basi di qualche forma di progresso questa soluzione che ha sostanzialmente concepito due idee fondamentali quella della proprietà privata onnipotente e quella dello stato sovrano altrettanto onnipotente i due grandi poli della modernità giuridica ha funzionato benissimo tant'è che negli ultimi 250 anni noi abbiamo trasformato quasi tutti i nostri beni comuni in capitale per cui oggi abbiamo una quantità enorme di capitale e abbiamo pochissimi beni comuni non abbiamo più aria pulita non abbiamo più luoghi di pesca non abbiamo più foreste abbiamo una situazione ambientale devastante non abbiamo più spazi di comunicazione sociale abbiamo distrutto i legami sociali familiari abbiamo massacrato i rapporti generazionali fra una generazione e l'altra non conosciamo più l'idea di comunità insomma tutto quello che rientra in questa grande nebulosa dei beni comuni è stato semplicemente mercificato e trasformato in capitale grazie ad assetti istituzionali che hanno funzionato benissimo per quello che dovevano funzionare oggi noi non possiamo fra questi assetti c'è sicuramente la sovranità politica degli stati l'ha detto bene Gustavo Zagrebelsky noi non possiamo certamente metterci di fronte a questo cammino dicendo ma forse potremmo far diventare l'Europa un grande stato quello poteva essere un'idea in una certa fase storica ma oggi non è quella secondo me la soluzione noi non dobbiamo immaginare un'Europa che diventa un nuovo mega stato potente quanto il mercato europeo che come sapete ha il progrotto interno lordo più grande del mondo che quindi potrebbe diventare un grande player globale noi non dobbiamo cercare di fare quello ma dobbiamo invece cercare di pensare dei nuovi assetti istituzionali che ci consentano finalmente di trasformare un po' di capitale in beni comuni cioè dobbiamo invertire la rotta davvero dal punto di vista istituzionale prendendo tutto questo capitale che abbiamo generato che oggi è di una quantità e talmente e talmente importante da essere stato capace di sovvertire gli stessi rapporti col politico e trasformare una parte di quel capitale in beni comuni come possiamo fare a fare questo questo secondo me è il punto fondativo certamente intanto è un cammino di medio lungo periodo non è una cosa che si può fare in pochi giorni secondo me soltanto qualcuno in preda al delirio di onnipotenza può dire ma io in un mese riformo il lavoro il secondo mese le pensioni il terzo mese riformo la sanità e il quarto mese riformo la legge elettorale è una cosa senza senso cioè neanche dio nel creare il mondo si era dato delle scansioni tanto strette e chiunque abbia un minimo di esperienza di amministrazione ma non dico di amministrazione della politica in senso alto ma anche di amministrazione ordinaria sa benissimo che per produrre dei cambiamenti non basta dirlo ma bisogna poi stare con grande serietà sul pezzo controllando che poi le cose effettivamente succedano perché se no non succede mai assolutamente nulla quindi noi mettiamoci in testa che abbiamo davanti a noi un cammino di una certa durata diciamo di medio lungo periodo ed è per questo che io penso sia molto importante votare dei candidati giovani non lo dico perché ho qui vicino Alessandra Quarta che citerai moltissimo che fosse eletta ma perché davvero io credo che ci vogliano vent'anni di attività politica seria per poter vedere alcuni degli esiti che noi stiamo cercando di mettere in campo oggi e quindi ci vogliono persone che siano competenti siano piene di energie e siano soprattutto non affette dal delirio di onnipotenza di poter pensare che soltanto perché sono giovani assomigliano a Fonsi possono effettivamente effettivamente cambiare il mondo allora questo secondo me è una cosa è una cosa molto importante perché ripeto siccome la visione deve essere quella cioè noi non dobbiamo fare niente meno che prendere gli assetti costituzionali del costituzionalismo liberale borghese che è quello che ancora ci sta governando e girarli come un guanto perché quegli assetti istituzionali hanno portato alla supremazia del privato sul pubblico hanno manifestato hanno prodotto uno sbilanciamento costituzionale che non è soltanto italiano ma che è un fenomeno del costituzionalismo liberale nel senso più ampio del termine cioè noi abbiamo dei sistemi costituzionali che ancora assumono che il soggetto potente da cui ci si debba difendere in fronte dei quali si debbano difendere i diritti sia lo Stato leviatano e che quindi il rapporto tra privato e pubblico sia che il privato è debole e deve essere difeso dallo Stato forte perché lo Stato potrebbe ledere i suoi diritti oggi purtroppo non è più così perché lo Stato è debole il privato concentrato è estremamente forte e quindi adesso noi abbiamo la necessità davvero di difendere gli assetti pubblici nei confronti della predazione privata che è esattamente il contrario di quello che c'è scritto nelle nostre costituzioni perché le nostre costituzioni sono quelle che ci consentono di privatizzare i beni comuni e i beni pubblici con una semplice decisione politica dell'esecutivo senza nessuna giustiziabilità di quelle decisioni e quindi che sostanzialmente difendono la proprietà privata nei confronti dell'espropriazione ma non difendono minimamente il pubblico nei confronti della privatizzazione e questo è quello che sta succedendo oggi intorno a noi allora io credo che noi nel costituzionalismo più avanzato e non voglio certamente rubare il mestiere a Gustavo parlando di costituzione ma siccome questo è il tema della giornata mi permetto di farlo non ci fosse stato scritto non mi sarei mai lanciato in tutto ciò penso peraltro che nella nostra carta costituzionale del 48 ci fossero in qualche modo gli orizzonti della direzione verso la quale si sarebbe potuto andare anche se la carta è stata poi interpretata soprattutto negli ultimi vent'anni dopo la caduta del muro di Berlino come se non fosse una carta sociale successiva alla costituzione di Weimar ma fosse invece una carta simile alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo quindi ancora una carta radicata nell'illuminismo di fine settecento mi riferisco al fatto che nel nostro assetto costituzionale vicino ai diritti ci sono i doveri e noi invece parliamo sempre soltanto di diritti e non parliamo mai di doveri vicino all'individuo c'è la comunità l'individuo è tutelato nelle comunità di riferimento e noi abbiamo invece demonizzato la comunità come se la comunità fosse un elemento di oscurantismo un luogo nel quale si viene soltanto oppressi invece individuo e comunità sono di pari grado a livello costituzionale e va recuperata la dimensione comunitaria perché quella è la dimensione secondo me che dal sotto in su può effettare può può proporre degli strumenti di trasformazione costituzionale vera e infine sempre nella nostra carta costituzionale sono presenti tanto la proprietà privata quanto la proprietà pubblica che sono posti esattamente sullo stesso livello mentre invece abbiamo riservato le nostre preoccupazioni di giustiziabilità costituzionale ai processi di espropriazione della proprietà privata ma nulla di simile abbiamo fatto in tutte le ipotesi in cui sono stati i beni pubblici ad essere oggetti di fenomeni di rapacità dello Stato controllato ormai completamente dai poteri privati forti e concentrati allora questo quadro va riscritto interamente io credo che nel momento in cui noi cerchiamo di mettere mano ad un'Europa nuova dobbiamo capire in modo molto sereno che i veri processi politici oggi non si svolgono più nel dibattito politico intorno alle istituzioni costituzionali tradizionali ed è stato detto molto bene da Martese cioè sul giornale ci sono grandi chiacchiere perché in realtà le cose che vengono fatte nel Parlamento italiano oggi importano pochissimo le vere decisioni che rilevano oggi sono prese nei consigli di amministrazione di Goldman Sachs nei consigli di amministrazione delle grande banche all'interno delle organizzazioni datoriali degli industriali all'interno delle banche centrali europee cioè all'interno delle istituzioni dell'economia non all'interno delle istituzioni della politica ma all'interno delle istituzioni dell'economia e quindi quello che va portato avanti in modo forte e chiaro e lì credo che il Parlamento europeo possa essere quello che è cioè una buona cassa di risonanza a livello europeo di problematiche politiche perché poco di più che questo nel senso che non conta come organismo decisionale conta però secondo me in modo importante per mettere delle tematiche all'ordine del giorno se è composto di persone competenti e capaci può mettere all'ordine del giorno delle tematiche di grande rilevanza e partecipare quindi alla costruzione di un dibattito politico di medio-lungo periodo quale è quello che cerchiamo di fare adesso in questa campagna in questa campagna elettorale e lo si può fare sostanzialmente mettendo al centro la questione del governo democratico dell'economia cioè la democrazia deve rivendicare i suoi spazi di incisione all'interno dei processi economici che soltanto con l'ideologia del privato diverso dal pubblico si sono riparati rispetto alla messa in discussione dei processi democratici cioè dobbiamo riportare in qualche modo le questioni democratiche all'interno dei luoghi che effettivamente contano e i luoghi che effettivamente contano oggi sono i luoghi dell'economia quindi è lì che dobbiamo cercare di incidere dopo esserci liberati in qualche misura di questo feticio del mondo racchiuso in una grande distinzione tra pubblico e privato che altro non è che l'ascito di un modello istituzionale che è proprio quel modello istituzionale che era stato creato per trasformare beni comuni in capitale che è stato il modello istituzionale che tanto tanto successo ha avuto quindi in conclusione io credo che sia importante ovviamente andare a votare Zipras sia importante soprattutto il fatto di continuare in questa campagna attraverso la riproposizione dei temi europei con un processo di porta a porta simile a quello che avevamo fatto con il referendum dell'acqua che abbiamo visto che abbiamo vinto nonostante la Repubblica nonostante il PG3 nonostante tutti quelli che sono contenti che adesso si capisca che sono della parte opposta lo possiamo fare attraverso un lavoro di tematizzazione seria di questo processo abbiamo i candidati seri abbiamo delle persone molto capaci e molto competenti che possiamo proporre con grande dignità proponiamo competenza proponiamo tematiche e vedrete che se lo facciamo in modo convinto perché queste sono tematiche che vanno discusse senza questa sorta di ansia per cui l'esito percentuale dell'elezione sia decisivo certo se passiamo la soglia io sono convinto che la passeremo e la passeremo anche in modo abbastanza largo io penso ma comunque questa è l'opinione mia se passiamo la soglia tanto meglio ma il passare la soglia ha una sua importanza di tipo generativo cioè dobbiamo utilizzare il Parlamento europeo come un luogo generativo di nuove idee di nuovi processi di nuove capacità di costruzione di idealità politica dobbiamo farlo quindi con dei candidati competenti e con dei candidati giovani perché ci vuole molto tempo grazie mille bene ringrazio tutti soprattutto perché siamo stati molto bravi con i tempi i tempi della sala ci portano ad essere un po' stretti io lascerei spazio ai saluti degli altri candidati presenti in sala che so che hanno piacere di dire alcune parole e se ci fossero due interventi molto rapidi li accogliamo quindi dovrebbero esserci gelati in sala ma forse no Gigi se vuoi salire vieni pure così velocizziamo i tempi ciao carissimi grazie Io sono Gigi Ricchetto della Valle di Susa, sono stato ferroviere e poi insegnante di storia e filosofia fino alla pensione. Vi porto il saluto di questa valle che resiste da più di vent'anni e vorrei ricordare che nel 2006, a poche settimane da quella notte delle infamie in cui colpirono delle persone inermi che defendevano la loro terra, noi organizzammo un convegno dal titolo Presidiare la democrazia e realizzare la Costituzione che si svolse a Bardonecchia, a Susa, a Bussoleno e a Condove. Un convegno itinerante. Era il 12 dicembre del 2005. Nel 2006 pubblicammo gli atti presso la tipografia Melli. È ancora disponibile questo documento di cui sono molto orgoglioso. Tra i relatori c'era forse il più grande filosofo italiano che è scomparso da poco anche a livello europeo che aveva studiato con Altussè e soprattutto era un amico profondo della Grecia, Costanzo Preve, a cui va il mio ricordo e la mia gratitudine. E visto che abbiamo parlato della Grecia, sul logo, potete vedere il mio sito, è gigirichetto.it. Io ho un logo disegnato da un delegato dell'Olivetti, oggi in pensione, Rinaldo Francone, un compagno di scuola, minacciato di morte per il suo lavoro sindacale, tra l'altro. Era il responsabile nazionale dell'Olivetti, responsabile di qualità dell'Olivetti, iscritto alla CGL. Cosa mi ha disegnato? Mi ha disegnato naturalmente la Sacra, che è il simbolo del Piemonte, ma è anche sulla via francisena un simbolo dell'Europa, e Rocciamelone. Alle pendici dal quale, sul Seghino, partì nel 2007 la marcia per la difesa della Costituzione dal Seghino a Susa. Mentre si picchiavano, noi rispondemmo con il dibattito, con il dialogo. Come rispondemmo con un invito all'ascolto, in collaborazione con il Sereno Regis, qui a Torino, se vi ricordate, con l'iniziativa Ascoltateli. Ma il Presidente della Repubblica attuale non ha tempo di ascoltare i valsusini, come non ha tempo di ascoltare le mamme della terra dei fuochi. Io avevo sette anni, quando il Maestro, c'erano i Trattati di Roma, 1957, secondo elementare, indisse il concorso per l'Europa. Disegnai un'Europa dall'Atlantico agli Urali, senza frontiere, colorata di rosso. Il mio Maestro era democristiano. Mi chiese perché? Disse, è il colore dell'amore. Io e lui sorrise ed era anche lui convinto che fosse così, che bisognasse costruirla così. Nel 1983, il primo anno di insegnamento, Pertini intervenne a Strasburgo con quel memorabile discorso nel quale diceva che l'Europa ha dato mondo ai mondi e parlava di Europa rapita dal toro portata in Occidente, la terra dell'occaso, come la chiama Heidegger. Io scrisse a Pertini, perché in Valle di Suso è un bel back, abbiamo anche il corretto granchi, ottimismo della volontà e forza della ragione, non pessimismo della ragione. Io scrisse a Pertini e Pertini, a differenza dell'attuale Presidente, mi rispose e mi mandò il testo integrale di quel bellissimo intervento che aveva tenuto Strasburgo, di grande passione civile e di grande intelligenza politica. Ecco, questi sono i miei primi ricordi dell'Europa. Però se voglio pensare anche filosoficamente all'Europa e purtroppo alla misera Italia, mi viene in mente la degnità 66 di Vico, nella scienza nuova. Gli uomini prima sentono il necessario, poi badano l'utile, appresso vertiscono il comodo, più innanzi si dilettono del piacere, quindi si dissolvono nel lusso, finalmente impazzano in istrapazzare le sostanze. Esempio, gli F35 e le grandi opere inutili come il TAV. Vico vedeva già molto lontano. Ma qui non si limitano a istrapazzare le sostanze, istrapazzano anche i valsusini, li accusano di terrorismo quando da più di vent'anni combattiamo in maniera civile, determinata e pacifica. Io faccio parte del gruppo Pace Valsusa, che unisce laici e cattolici nella difesa della democrazia, dell'ambiente e della salute. Perché l'articolo 32 della Costituzione non è negoziabile, come non è negoziabile l'articolo 9 sul paesaggio. Ma noi, e l'abbiamo sentito dal professor Zagrebeschi, noi sappiamo che la politica è scelta. Su quel disegno, io ho messo una frase di Platone, del mito di Er, Libro Decimo della Repubblica. Traduco per i non indigeni. Allora, la virtù non ha padrone, che tu la onori o la disprezzi, di più o di meno ne avrai. Non devi cercare un Dio, sei tu il responsabile, sei tu che scegli. E noi oggi abbiamo nelle mani, con il voto del 25 maggio, la possibilità di scegliere un'Europa pacifica, libera, solidale. Sono le cose che ha detto il professor Gallino, in particolare per quanto riguarda il lavoro. Però io mi chiedo, anche collegandomi all'importante contributo che ha dato Zagrebeschi negli anni, e io l'avrei visto volentieri capolista nella nostra circoscrizione, per il lavoro di studioso, e abbiamo bisogno di cultura alla guida dell'Europa. Abbiamo bisogno di questo, non degli ignoranti e dei complici. Comunque, io concludo facendo una riflessione. Perché questi qui scelgono la liberalizzazione, la privatizzazione, i derivati? Torino è la città più indebitata e inquinata di Italia ed Europa. I derivati, i derivati. Bisognerà cominciare a parlare anche di queste truffe. Fuori e dentro le fondazioni, anche se sono intitolate agli apostoli, che non c'entrano niente. Ma io voglio dire questo. Perché non scelgono l'altra Europa questi personaggi? Perché ci vorrebbe quella che Gramsci chiama la forza di drammatizzazione della vita. E lasciatemi leggere questo. Avanti edizione piemontese, quasi cento anni fa, lo stesso mese, 3 aprile 1917. È necessario sentire questi bisogni. È necessario potersi rappresentare concretamente nella fantasia questi uomini, le loro sofferenze, i loro dolori, le tristezze della vita che sono costretti a vivere. Un uomo politico è grande in misura della sua forza di previsione. E Simon Weil diceva conoscere i bisogni terrestri del corpo e dell'anima umana. Ma dove sono i politici oggi, a destra o a sinistra, tra virgolette, che sentono questi bisogni? Io ero a Sanremo, e chiudo adesso Marco, ero a Sanremo per la campagna elettorale, per la raccolta delle firme, e mi raccontava una compagna che era stata da Iti ad aiutare i terremotati, e io pensavo come luogo comune che Sanremo fosse una città opulenta, con una certa ricchezza, che dalle frazioni di Sanremo scendono a piedi, si fanno sette chilometri, risparmiano sull'autobus per potersi pagare le medicine, e vanno alle fiere dell'antiquariato per vendere i vestiti cui sono affezionati dei loro nonni, o pezzi di mobiglio di un certo pregio, perché non riescono più a mangiare. A Sanremo. A Sanremo. Ci sono tanti altri esempi che potrei raccontare, ma voglio chiudere e vi ringrazio dello spazio che mi avete dato. Perché non hanno questa fantasia? Ma come fanno ad avere questa fantasia il Presidente della Corte Costituzionale che guadagna 1.490 euro al giorno, Ugo Zampetti, Segretario Generale della Camera, 1.309, Serafini Elisabetta, Segretario del Senato, 1.169, Squitieri, Presidente della Corte dei Conti, 852, Clemente, Presidente aggiunto, 824, la Serafini guadagna 479 mila euro all'anno e Napolitano, però ricordate che sta 8 anni moltiplicate per 8, 238 mila euro. Come fanno questi qui ad avere la fantasia drammatica di Gramsci? Per questo renzismo è la malattia infantile e del berlusconismo. Grazie Gigi, se Nicolò e Andrea vogliono rapidamente salire. Buonasera a tutte e tutti i reduci di questa sala. è stata un'iniziativa davvero molto interessante e spero che avremo tempo da qui al 25 maggio di farne molte altre. Sarò molto rapido, io sono Nicolò Lino e sono candidato nella circoscrizione Nord-Ovest, sono di Asti. Ieri un compagno mi ha confessato di essere stato in questi giorni a due avvenimenti, la Kermes al Palaiso Zaki del PD e l'iniziativa che c'è stata ad Asti ieri mattina con i parlamentari e i candidati alle regionali del 5 Stelle e mi ha detto che si è trovato ad oscillare tra il vuoto e la farsa e vi lascio un po' scegliere dove sta il vuoto e dove sta la farsa. Io credo che sia un po' in questa difficile opzione la nostra capacità e la nostra portata politica. Il nostro messaggio deve essere quello di inserirci nella maniera più chiara e forte possibile in questo deserto politico fatto di taglionetto di ogni radice ideologica, di ogni riferimento politico che vada al di là del tormentone estivo che vada davvero a tagliare i ponti con tutto ciò che è stato in qualche maniera rappresentativo e degno di noto della nostra storia anche recente. Io credo che la nostra portata politica sia proprio quella di stare nel dibattito politico attuale finalmente ce n'è un gran bisogno anche se molti per come si esprimono politicamente crediamo che sia difficile che lo sentano come un bisogno ma c'è questo bisogno di avere un programma chiaro e dirlo con parole nette semplici. Io credo che per quanto gli argomenti trattati questa sera e così in molte altre iniziative siano argomenti centrali, fondamentali difficili si sia riusciti e quindi va un grande ringraziamento ai relatori di questa sera siano stati resi in maniera davvero molto comprensibile e abbordabile e questo deve essere un po' il patrimonio comune di tutti noi candidati, militanti e intellettuali che facciamo parte di questa campagna elettorale importantissima perché riuscire a portare in maniera credibile e speriamo forte un risultato elettorale che premia finalmente dopo anni quell'Europa che diciamo mette in discussione la democrazia riuscire a portare ad essere un'Europa che mette in discussione le diseguaglianze sociali che mette in discussione l'emarginazione sociale che mette in discussione un paradigma economico che in questi anni ha portato ad una grande dissociazione dall'idea di Europa questa sarà la nostra più grande vittoria al di là della percentuale elettorale che raggiungeremo e cerchiamo davvero di far sì che le persone tra il vuoto e la farsa abbiano anche l'occasione di appropriarsi di quello che è un messaggio politico che può essere davvero salvifico per io credo la maggior parte della popolazione d'Italia ed Europa continuiamo così grazie buonasera a tutti io sono Andrea Padovani candidato della Valle d'Osta e nella circostazione nord-ovest ma un breve saluto anch'io e intanto un ringraziamento per le belle parole di Marco Revelli di prima che vorrei condividere con tutto il comitato valdostano e con tutte le compagnie e i compagni che dalla Lombardia e dal Piemonte sono venuti a darci una mano per come dicevamo noi in Valle d'Osta per scalare la cima delle 3.000 firme e l'abbiamo più che oltrepassata arrivando a 4.000 firme e quindi una prima vittoria della democrazia l'abbiamo ottenuta insomma e mi vorrei unire all'appello che faceva prima Mattei dicendo che dobbiamo andare a fare porta a porta a spiegare le nostre idee e il nostro pensiero e il nostro programma e dobbiamo farlo perché appunto il dibattito attuale sull'Europa è bassissimo non si parla per niente di tematiche europee dell'attacco alla democrazia sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico col fiscal compact con quella cavolata uso un termine un po' soft del pareggio in bilancio in costituzione che non permette nessun nessun tipo di politica sul welfare e sul lavoro e quindi mi vorrei unire a questo appello insomma la la prossima vittoria e quindi il superamento del 4% che dovremo superare alle elezioni dipende da tutti noi che siamo qui in sala insomma noi dobbiamo andare a spiegare quello che è la nostra idea che è l'idea di un'Europa più giusta più equa più ecologica di un'Europa vera di un'Unione europea politica vera e dobbiamo spiegarlo con parole molto semplici come diceva prima Nicolò perché la gente se no rischia di non capirci e insomma siamo riusciti a superare la prima soglia che era quella delle firme passiamo anche il 4% e portiamo in Europa le nostre idee che sono sicuramente giuste e sono quelle di un'Europa più giusta più equa solidale e ecologica grazie scusa Alessandra scusa solo un secondo prima che tu concluda questo incontro lasciatemi solo dire che noi oggi non abbiamo fatto una Kermess non abbiamo raccontato barzellette non abbiamo fatto giochi di parole o giochi di prestigio non abbiamo parlato d'altro ne parlavamo ne parlavamo prima con Gustavo Zagrebeschi oggi abbiamo fatto un pomeriggio di riflessione e abbiamo affrontato in queste due ore questioni serie serie so che la serietà non ha buona stampa non non buca il video non non è materia da talk show ma noi resteremo tenacemente legati a questa cifra di serietà questa sarà la nostra campagna elettorale non faremo compromessi abbiamo un alleato in questo e questo alleato sono i fatti e c'era qualcuno che diceva i fatti hanno la testa dura i fatti sopravvivono anche dopo che i giochi di parole si disperdono le barzellette hanno smesso di fare il loro effetto ecco noi siamo alleati dei fatti e i fatti ci dicono che abbiamo ragione poi può darsi che in termini di voti non otterremo tutto quello che meriterebbe la proposta ma sono sicuro che anche raccogliendo l'invito che qui è venuto da più parti che ognuno di voi si faccia tramite di questo progetto e di questa avventura sono sicuro che così come abbiamo superato lo scoglio delle firme supereremo anche la prova del voto Alessandra credo che Marco abbia detto tutto io vi ringrazio soprattutto perché ha resistito fino alla fine credo che abbiamo sentito parlare in questo pomeriggio di tanti temi che sono al centro della campagna elettorale ma di un impegno politico di lungo periodo di altri non abbiamo parlato ma ci sarà tempo per farlo vi dico che all'inizio di maggio organizzeremo un appuntamento dedicato al tema del lavoro e faremo di tutto e in questo Marco ci darà sicuramente una mano per portare Tsipras a Torino in chiusura della campagna quindi i compiti a casa ve li abbiamo dati diciamo così o meglio ce li siamo dati provare a raccontare l'Europa che immaginiamo e l'esperienza di questa lista a tutti quelli che conosciamo e che ancora non lo sanno i giornali in questo non ci daranno una mano ma il referendum per l'acqua l'abbiamo vinto ce l'abbiamo fatta dobbiamo riprodurre questa esperienza con lo stesso carico di energia e di entusiasmo quindi alla prossima occasione e andiamo avanti perché possiamo farcela grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille